Sentono la necessità di difendere la legge 194 e la libertà delle donne nell'ambito dell'interruzione volontaria delle gravidanze, le ragazze e i ragazzi dell'Associazione Un Altro Molise è possibile, in presidio a Campobasso. Andiamo a vedere. Nel presidio delle ragazze e ragazzi dell'Associazione Un Altro Molise è possibile, al centro di Campobasso, c'è tutta la lotta in difesa di una legge dello Stato, la 194, quella che stabilisce le norme per accedere all'interruzione di gravidanza e contro ogni scelta a diminuire il rispetto e mortificare ancora una volta le donne. Purtroppo non c'è una grande informazione sulle pratiche abortive e neppure sulla 194, quindi non si conoscono i metodi di accesso all'IVG, le possibilità e impossibilità di accesso. Questo è un problema molto grave, soprattutto all'interno di ambienti che dovrebbero essere formativi per loro natura, come la scuola. Ad esempio le scuole dovrebbero collaborare con i consultori sui territori per garantire una efficace educazione sessuale, alla contraccezione, all'affettività. Questo ovviamente non succede, non abbiamo informazioni riguardo all'IVG, a parte quelle che ci autoprocuriamo. Ed è per questo che oggi noi in generale crediamo molto nel metodo dell'autoformazione collettiva, quindi di un sapere che viene condiviso e ricercato da noi, per noi, e quindi all'interno delle piazze, all'interno delle scuole. Quindi è molto importante questa dimensione che mette il sapere finalmente al centro, dopo anni di tagli all'istruzione, alla sanità, alla scuola. E quindi è importante quello che facciamo anche per una diffusione concreta del sapere, perché è giusto che le persone sappiano come si può abortire, quali sono i nostri diritti, quando si può fare, entro quanto tempo e quant'altro. Quindi queste informazioni devono essere di dominio pubblico e non appartenenti ad una elite di persone che si preoccupa di informarsi oppure che si informa per necessità quando incappa in problematiche di questo tipo. C'è un problema anche di repressione, l'abbiamo visto anche con altre piazze che abbiamo organizzato, anche in occasione dell'arrivo di Giorgia Meloni a Termoli. C'è un problema di repressione, c'è un problema di partecipazione giovanile alle mobilitazioni, soprattutto dopo due anni di Covid, in cui il benessere psicologico delle ragazze e dei ragazzi non è stato minimamente considerato. E quindi non sappiamo quanto partecipata sarà la nostra piazza, ma comunque noi abbiamo l'intenzione di avviare un progetto di questo tipo per avvicinare sempre più le persone a quello che facciamo, a quello che vogliamo fare, a quello che vogliamo soprattutto cambiare nella nostra regione per renderla un posto in cui tornare. Perché molte persone vanno via per studio, per lavoro, e noi vogliamo rendere questo posto degno di essere chiamato casa.